Oggi voglio mostrarti Pasticceria Lievitata, il nuovo videocorso formativo per essere padrone della materia della pasticceria lievitata. Il motivo principale di questo corso è stata la voglia di aiutare professionisti, amatori, pasticceri, fornai e tutti quelli che vogliono diventare molto più abili e capaci della pasticceria, nello specifico lievitata, ho deciso di trasferire tutte le mie informazioni maturate negli anni all'interno di questo percorso formativo. Un percorso formativo veramente molto importante con oltre 40 videolezioni, ormai siamo quasi a 50 con vari aggiornamenti. Mi sono preso il compito di insegnare ad appassionati e anche a professionisti una materia molto complessa e infatti all'interno di questo percorso formativo, oltre ad avere le videolezioni e tutte le ricette, troverai anche la possibilità di comunicare direttamente con me, semplicemente scrivendomi sotto la lezione desiderata. Mi sono formato con i più importanti formatori italiani e esteri, fino ad arrivare anche in Australia e ho conosciuto di persona i migliori pasticceri anche al mondo. Le informazioni che troverai all'interno di Pasticceria Levitata sono di altissimo valore e vengono sia dalla mia gavetta e centinaia di ore di laboratorio, che dallo studio e da tutti i percorsi formativi che ho fatto nei miei anni. La maggior parte si limita a darti una ricetta, mentre invece io ti svelerò i segreti che ci sono dietro una ricetta, come bilanciare una ricetta, come creare una ricetta da sé, per essere padrone dei concetti, sia sulla pasticceria levitata di piccolo taglio, medio, grandi levitati, e anche come gestire il lievito madre. Ho deciso proprio di rendere capace in pasticceria le persone anche se partono da zero, perché copiare una ricetta lascia il tempo che trova, la differenza lo fa essere padrone di una materia. Andiamo a vedere quindi cosa c'è all'interno di pasticceria lievitata. All'interno troverai moltissime lezioni, come puoi vedere, sia pratiche, quindi ad esempio andiamo a vedere come fare un cornetto di base, come stratificare una pasta sfoglia e una pasta brioche in modo perfetto, una crema pasticcera alla panna, il bicolore, i panna cioccolà e speciali, l'impasto leggero ad esempio, saccottino, girelle, uvette e crema, i crans con uvetta, il cornetto integrale, il panna cioccolà, il bombolone, la bresciane, i danesi, le veneziane, e sono tutte lezioni pratiche. Andiamo a vedere ad esempio all'interno del croissant bicolore, per esempio. Ecco, all'interno di ogni lezione troverai il video, dove proprio ti faccio vedere all'opera come si fanno i determinati impasti, e come puoi realizzare prodotti molto molto belli, sia a livello estetico che di gusto. Ecco, faccio vedere, vedete proprio ogni tipo di passaggio, sotto troverai la ricetta, ok, e sotto potrai anche commentare, ok, commentare e io ti risponderò. Questi sono i miei corsisti, vedete in piattaforma che stanno sfornando i loro prodotti, molto molto belli, stanno facendo veramente un ottimo lavoro. Andiamo a vedere ad esempio Antonio. Ecco, Antonio ha appena sfornato dei prodotti meravigliosi, ok, Caterina, anche lei molto brava, veramente Maria Francesca, e tantissimi studenti che abbiamo all'interno della piattaforma. Andiamo a vedere quindi un pochettino ancora il corso, abbiamo visto le lezioni pratiche, abbiamo visto le lezioni teoriche, ecco, queste sono le lezioni teoriche, andiamo a capire la forza della farina, andiamo a capire come bilanciare una ricetta da sé, capire la levitazione, capire le temperature, le varie fasi, i riposi, le differenze tra impasti magri, ricchi, le cotture, l'alveolatura, è un corso veramente completo sull'argomento. Probabilmente le informazioni che troverai qui dentro non le troverai da nessuna parte, organizzate anche in questo modo. Le video lezioni del salato, quindi panottone gastronomico, impasto salato con metodo diretto, ad esempio il panettone con il lievito madre, quindi ad esempio clicchiamo nella video lezione panettone con il lievito madre, andiamo a vedere, infatti, questa è la video lezione, dove spiego anche molto sul lievito madre, ma ci sono delle lezioni apposite, e io che sforno, vedete, proprio i panettoni, e li metto a testa in giù, e faccio vedere esattamente, vedete che bello, bell'effetto mongolfiera, molto molto belli, e sotto potrai, ecco qua, vedete, potrai scrivermi, e io ti risponderò per qualsiasi dubbio, problema o perplessità. Abbiamo la creazione, la gestione del lievito madre, vedete qui, tutte le varie fasi, spiego le percentuali di acqua, l'idratazione, il lievito madre liquido, il solido, le varie gestioni, e poi gli approfondimenti, sul lievito ancora più tecnici, quindi le varie fasi del lievito, la fase di logaritmica, quindi la fase che cresce, la decrescente, insomma, spiego veramente cose, molto tecniche all'interno. Le video lezioni del lievito madre con l'icoli, faccio vedere come gestire l'icoli, sia in uso casalingo, e faccio vedere anche una colomba con l'icoli, e poi ci sono, spegniamo l'audio, e poi ci sono, all'interno troverai tutti i libri dell'Academy, quindi ci sono tutti i libri che ho pubblicato in questi anni, quindi il libro delle brioche, croissant, bomboloni, e tutte le avveniserie che troverai all'interno del corso, le ricette le troverai qui dentro, e molto di più, e poi troverai anche tutti i vari libri per poter sperimentare altre cose in pasticceria, come ad esempio il salato da forno, le basi, i biscotti, tutti i libri che voi cliccando all'interno potete scaricare tranquillamente con un click. Questa è la copertina, qui c'è il click, e potete scaricare, vedete, su desktop immediatamente il libro, e avere tutte le ricette a portata di mano. Oltre a tutte queste ricette, quindi come fare i muffin, torte da colazione, macarone, la cucina del benessere, anche il libro, quindi senza zucchero, avete i bonus, che sono tutte ricette extra, ok, quindi oltre il corso, che magari mi sono state chieste anche dai corsisti, che io continuo ad aggiornare, se mi chiedono qualche ricetta, gliel'aggiungo, in più ci sono i panettoni al pistacchio, il cioccolato, le colombe, le tecniche per la bienniserie, il vegano, le ricette della sfoglia, la crema pasticcera da forno, eccetera, eccetera. Insomma, un corso veramente il più completo sull'argomento, mesi e mesi di lavoro, per poter permettergli appassionati, pasticceri, fornai, e tutti quelli del settore, che vogliono imparare, anche semplicemente amatoriali, a diventare molto più abili e capaci. Quindi la soluzione per capire a fondo la pasticceria lievitata è questo videocorso, l'offerta la trovi qui sotto, c'è un link direttamente per entrare e quindi per accedere al corso formativo più completo del momento. Quindi io ti saluto, ti lascio il tasto qui sotto, ci troverai all'interno oltre 40 lezioni, ok? E ci saranno all'interno tutti i bonus per te. Quindi iscriviti e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!